è stato siglato in mattinata a Palazzo Chigi il protocollo che permetterà la rieprisa delle messe in presenza di fedeli. L'accordo è stato firmato dal presidente della CEI, dal premier Conte, dal ministro dell'interno Lamorgese ed entrerà in vigore dal lunedì 18 maggio. Conte ha ringraziato la CEI per il sostegno morale e materiale che sta dando all'intera collettività. Il protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia tra il governo, Comitato Tecnico Scientifico e CEI, dove ciascuno ha fatto la propria parte. Dal 18 maggio potrebbero riaprire bar a ristoranti parrucchieri nelle regioni virtuose, ossia quelle che hanno raggiunto più giorni con zero contagi e decessi nell'arco dell'ultima settimana o che comunque hanno un indice di contagiosità vicino allo zero. Tra le altre, Basilicata Molise, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Sardegna, Sicilia ha toccato lo zero nella casella decessi per un giorno.